Tremitalia, proveniente da Torino Porta Nuova, è diretto a Salerno, delle ore 14.11, è in arrivo al binario 2. Attenzione! Allontanarsi dalla linea gialla. Ferma a Massacentro, Viareggio, Pisa Centrale, Livorno Centrale, Candiglia Marittima, Fulonica, Grosseto, Civitvecchia, Roma Ostiense, Roma Termini, Latina, Fornia, Aversa, Napoli Centrale. Carrozze dalla 1 alla 3, in testa treno, dalla 4 alla 5 centro treno, dalla 6 alla 8 coda treno. Car tasto treno, da 5 minuti, dalla 55 minuti e da 6 minuti. Ricare e量are forti, della diagramma, dei olması, per sempre a base di tre molto gemb .. Funciate persone... ... Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.